All'inizio devo solo far sapere che forse era dieci anni fa, ero fissato a Milano perché ho perso il volo a New York, tre giorni da fila e tre giorni da fila sono tornato sempre al cinema per vedere Giulia non esce la sera e veramente era stupendo, complimenti, solo un ricordo mio, grazie, grazie per quel bel ricordo. Prima di tutto, tre volte Giulia non esce la sera è un po' troppo. Non è il tuo film preferito? No, no, non per questo, ma penso che magari, ho capito. O Valerio Golino? Sì, ovviamente, 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 questa è la razza. Assolutamente. Ok, sono qui per mostrare il mio primo film come direttore. È una storia che ho conosciuto 15 anni fa, perché ho pensato che in Italia abbiamo un grande problema, penso che in tutto il mondo, ma soprattutto ho saputo dei miei problemi. Sufera andri studi untuk sempre posti, vediamo, da insieme anche a semi e sale, né, ma vi o tempo non si fa percepite un mio cavale che è morto il mio obeso in un'ambiente, un'ambiente, un'ambiente gua che si fa questo sentisi, il 같이, pochè, por è us tryna, la sofferenza privata diventa diventa una sofferenza pubblica, quindi si è confusa la sensazione pubblica di questa morte e si perdita il momento per mantenere la sofferenza per lasciare la sofferenza in libertà, lo sai? è un film che dice che oggi è difficile essere felice, ma è difficile sentirsi la sofferenza perché la gente decide come si può affrontare le sofferenza, quindi è una piccola storia come si dice tema? theme I know, I know plot the human plot e dopo, o meglio dire, durante una carriera così lunga, così profonda, così brava, cos'era esattamente in this moment that made you want to direct your first motion picture? I wanted to more responsibilities perché being a director you have a great responsibility about the story you want to tell, about the way you want to tell the story while as an actor I have a small responsibility that not means that I don't care about the movie, I don't support the movie in all his aspects but I want more maybe and I want to face the other aspects of making cinema making cinema seems to express yourself in a different way you can do it in a different way and as a director I want to try this e come è andato? because you're correct I wouldn't go so far as Alfred Hitchcock who said that actors are all mucche vacche but you are it's true, I'm a beef I'm a beef well, it is true that you are a paint un tinto sulla tela del regista you're kind of like a paint on the canvas of the director but how did that experience go? your long experience as an actor and now your first experience directing how did that go for you? having responsibility over all those aspects? I was not an actor in this movie so I could focus on the actor's job and I could focus on what the actor's job means for me it means something strange, something really weird I'm an actor that leaves the characters inside very inside, without preparing myself or becoming someone no, I leave the character in his contradictions really in a deep, deep way I don't know how to say it's an unconscious way to face characters and I would... I wanted this from the actors of my movie and I was really... I'm not a good director from this point of view because I expected from something natural why, why, I told you we are not actors like you ok, 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 that's alright so if I... I'll do another movie I... be... I'll be more careful to this aspect of making movies what about being a director and dealing with actors as a director maybe influenced or changed what your relationship will be with your directors on future projects as their actor? yeah, now I understand in a better way the director's pathologies, you know because I really worked with many of them and I... I feel many difference from actor to... director... from another director and I respect more, diciamo no, 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 I knew how much they... they suffered from the... because there are directors that suffer a lot other don't care but now I... I respect their anxiety and... but I... what I learned about... from... as a director is to be surprised from the actors I have to allow myself to be surprised from actors even if I have a... concrete and... practical and strong idea of what I want of what I want because actors... are useful for this to... to explore other... situations what was the dichotomy of... of that intense preparation that you had to have as a director compared to... the more personal preparation as an actor? yeah, being a director means... answer... to... 1000 of questions a day, per day so... it's not a preparation... it's... a... zen... maybe... it's meditation because you have to keep... everyone safe... everyone calm... everyone... and the one that could... can be... non è sicuro, non è caldo, sono tu. Ma l'altro, devo supportare per essere nervoso. E ho trovato un film per giorno, perché non voglio preparare me. Voglio preparare un sentimento immediato con quello che ho fatto. Il famoso direttore americano, Sidney Lumet, ha detto che ci sono 200 crediti alla fine di tutti i miei film. Qualcuno di queste persone può riuscire il mio film. Quali sono i aspetti positivi o i problemi che hai avuto come direttore in charge di tutti i miei film e i miei film, in venire per una visione commona? Mi piace il cinema, perché magari è il lavoro in cui tutti hanno una responsabilità di quello che fanno. e l'unica è buona per tutti, l'esito del lavoro. Quindi questa responsabilità collettiva aiuta la gente a fare il meglio che possono. Quindi non ho mai pensato che il cinema sia un grande direttore, un grande attore. E' sempre un grande film, un grande gruppo di persone, un grande gruppo di professionali. Quindi mi piace il cinema per questo motivo, perché è ciò che più rappresenta meglio che da soli non si va da nessuna parte. Wow, sì. Translate, por favor. Sì, è il migliore di mostrare come puoi farlo, come puoi farlo, come puoi farlo, come puoi farlo. E per farlo tutto a un lavoro collettivo. Grazie molto, per favore degli italiani e dell'ambiente. Siamo riusciti che sei a Open Roads. Grazie molto per venire qui e il tuo lavoro. Sì, spero di vedere un altro film tre volte per aver perduto un aeroplane. La quarta volta Giuliano esce la sera. No, Giuliano, un altro film. Scorsese movie è meglio, credo. Well, well, meno male, meno male.